La prossima assa della casa d'asse Sant'Agostino dedicata ai dipinti, alle sculture, è una piccola ma importantissima collezione di opere grafiche. Sarà a giugno, quindi vi diamo appuntamento a giugno. Adesso vi racconterò una breve selezione delle opere. Opere di Giacomo Grosso, ben tre. Due sono più di impianto ottocentesco, uno invece è più moderno, Novecento, una bellissima donna vestita con un abito di seta nero, con i collins, quindi delle calze, moderna del Novecento, erano nate allora. L'abito era di Lanvin, quindi un'importante maison della moda francese e i gioielli di Bulgari. Lo studioso che ha appunto visto l'opera e l'ha studiata ha identificato anche con gli studiosi della moda. Quindi davvero una donna vestita in modo moderno, elegantissima, con una postura moderna, una donna bellissima e invece gli altri due sono diciamo più ottocenteschi come tipo di pensiero. Quindi Giacomo Grosso bellissimi, ancora due bellissimi roda di montagna che rappresentano il Cervino, quindi le nostre montagne, che piacciono sempre molto, uno molto grande, uno leggermente più piccolo, quindi due roda di montagna e ancora una selezione di opere di pizio. Quindi questi diciamo sono i quadri, le opere d'arte più ottocentesche primi del Novecento. Poi proseguiamo invece, arriviamo nel Novecento, entriamo proprio nel Novecento pieno con un bellissimo ritratto verile di Marino Marini, pittore che poi ha seguito molte evoluzioni, ma in questo caso da noi è presente con un bellissimo ritratto verile del 1929. Continuando abbiamo due opere di Music, un cavallino degli anni Sessanta, anzi una dei cavallini degli anni Sessanta e un'opera invece più astratta, quindi Zone Music con ovviamente le autentiche dell'archivio, ancora un cascella diverso degli anni Cinquanta. Già dal titolo l'invito, c'è questo portone aperto che si apre su questo bellissimo giardino, è un quadro riposante, bello, molto ben riuscito. Proseguendo, entriamo nel pieno Novecento con le opere di Caro Rama, una nostra pittrice locale che ha avuto sicuramente una visibilità a livello internazionale in questi ultimi anni. In questo caso è presente con una china, un disegno con le sue solite tematiche, già il titolo Seduzioni ci fa capire che tipo di disegno può essere. Ancora un bellissimo olio di Lindström, una selezione di Mondino, quindi ritorniamo in un'area più piemontese, torinese, due bellissime torifico degli anni Sessanta, quindi delle opere importanti, ancora un disegno di Fontana, sempre degli anni Sessanta, dal titolo concetto spaziale, quindi proprio Fontana 1964, concetto spaziale, quindi proprio un disegno di Fontana, ancora due rotella, uno ce l'ho qui alle mie spalle, una Marilyn e ancora un quadro un po' più estratto di Rotel, ancora in questo caso con l'archivio, un salvo, salvo in questo momento la superstar di Torino del mondo, è presente con una nevicata degli anni del 2009, anche in questo caso con l'archivio sapete come siamo attenti. Ancora una suite di Gilardi che facevano parte di un'installazione e quindi delle sculture e ancora a Gilardi ovviamente Piero presente con un greto, quindi una scatola dentro un greto che sono le sue opere più conosciute. Non posso non dimenticare un vedova del 1942-43, il momento in cui vedova inizia a ragionare sui lavori, infatti il titolo è l'operaio ma è un soffiatore di vetro, quindi proprio il suo mondo, la sua Venezia che viene qui rappresentata con un soffiatore di vetro mentre lavora. 1942-43 è un quadro bellissimo. Ancora Castinari con un'opera dalle belle dimensioni e dalle grandi dimensioni, un bel Castinari e chiuderei con un brindisi che vedo davanti a me, un'opera grande del 1964-65 che mi invito a vedere di persona perché è un'opera di una potenza straordinaria. Ancora Ruggeri alle mie stalle, è presente anche con altre opere, ovviamente sempre i nostri artisti che abbiamo, quindi ancora abbiamo delle opere di Menzo, di Paolucci, quindi il nostro mondo torinese, abbiamo già detto Ettore Fico, quindi insomma Torino, noi siamo una casa d'asse nata a Torino 50 anni fa, quindi sicuramente il nostro mondo torinese è sempre presente. Ed è ancora presente il nostro mondo, con l'arte povera, l'ultimo grande movimento che c'è stato a Torino è negli anni 60, che poi è durato pochi anni, ma di fatto gli artisti dell'arte povera sono famosi in tutto il mondo. Ci saranno due opere di Zorio del 1974-73-74 e sono quelle stelle che lui faceva sulla carta da lucido, quindi ben due opere di Zorio che sono state trattate, vendute dalla Galleria Sperone, che di fatto è stata la Galleria dell'arte povera, quindi fanno parte di un'importantissima collezione torinese. Ancora, e poi vi lascio e vi aspetto ovviamente in esposizione da noi, una selezione di sculture belle e importanti, fra cui spicca fra tutte una scultura straordinaria di Giuseppe Renda. Furono fatte tre versioni in bronzo e due in marmo, questa è una delle tre versioni in bronzo, è stata esposta già nel 1897 all'Expo di Bruxelles e ancora nel 1904 all'Expo di St. Louis, quindi un'opera bellissima. Questa veramente dovete venire a vederla dal vivo, perché è un'opera bellissima, una scultura stupenda. Ancora, ma per citarne una, Santiano, che invece è una scultura molto interessante, gli amanti, quindi fa parte di quel gruppo delle sculture erotiche bellissime, che piacciono sempre moltissimo ai collezionisti. Per cui vi aspettiamo per l'esposizione, per venire a vedere le opere dal vivo, perché abbiamo oltre 200 opere. Vi ricordo ancora una selezione bellissima, credo, sto facendo il catalogo adesso, quindi credo metterò una decina di opere anche di grafica nazionale e internazionale, molto importanti, quindi mi fa piacere inserirle in quest'asta prima della chiusura delle vacanze e ci diamo ovviamente poi appuntamento alla prossima sta ottobre, per cui venite adesso a vedere la nostra esposizione.